vediamo adesso altre due istruzioni molto importanti la programmazione assoluta o incrementale quando si usa l'uno e quando si usa l'altro e cosa si cosa rappresentano allora la programmazione allora quindi g90 g90 vorrebbe dire io ho un sistema di riferimento fa tutte le lavorazioni mettiamoci abbia una piastra da fargli vari fori cosa faccio metto il sistema riferimento qui e gli do le ordinate dei fori quindi x y 1 1 poi gli do x2 che è questo y2 che è questo e via dicendo va bene questa è la coordinata g90 nello stesso modo posso darla g91 g91 che vuol dire vorrebbe dire fuori la lavorazione di x1 g91 poi con il g91 cosa succede mi sposta il sistema riferimento nel punto dell'ultima lavorazione quindi il secondo punto non è questa coordinata ma è direttamente questa quando è che uso il g91 uso il g91 quando da fare tutte le lavorazioni in direzione per esempio orizzontale simili per esempio no se io ho questa lavorazione da fare la piastra con tutti i fori distanti 10 e alla stessa vuota y va bene va bene tutti fuori distanti 10 cosa faccio io invece di dare il g90 e di dare tutte le ordinate fa molto di fare il g1 anzi facciamo prima metto il g00 metti il g00 a z1 supponendo di fare questi fori ora questo è annullato visto così va bene e lo 0 è su questo punto io mi metto io mi metto z1 cioè a un centimetro di quota dove devo forare e va a x0 y0 cosa faccio vado in rapido il g00 x10 y mettiamo sia 8 8 chiaro a z1 poi vado g01 e vado a z fa un quanto la lamiera sia alta 10 fa z meno 11 e fa il primo foro poi cosa posso fare posso fare fare il g00 e mi riporto in z uguale 1 chiaro cosa posso fare se fa così poi devo dare il g00 x20 e spostarmi avanti di 20 e rieffettuare la lavorazione se invece io do il g91 lui si trova in questo punto io qui posso dare no x20 ma ripetere l'istruzione x10 y8 perché lui va in questo punto sposto il sistema riferimento qui chiaro? e poi gli posso dare direttamente l'avanzamento tutte le volte 10 incrementale rispetto all'ultimo punto che ho preso questo è il rosso ecco il g91 il g91 riposiziona il sistema riferimento nell'ultimo punto dove è arrivato quel passaggio precedente quindi riaggiorna tutte le volte il sistema riferimento sull'ultima posizione ottenuta quindi si dice gli do quello che si chiama un riferimento incrementale cioè l'incremento rispetto al posto all'ultima lavorazione qui vediamo un esempio devo fare questa lavorazione va bene? se l'ho fatto a coordinata assoluta mi metto in questo punto e tutte le volte devo dare inizialmente darò 4, 12 poi darò 4 più 24, 28 16 poi darò 36, 40 quindi dipende anche come è quotato il disegno se è quotato incrementale o se è quotato assoluto sopra è quotato incrementale mi trovo bene poi darei 4, 56, 40 e via dicendo se invece è quotato incrementale come è sotto una quotatura in serie darò chiaramente mi ci vuole anche la differenza fra l'ultimo punto e quello dopo comunque darò se fò l'incrementale g91 darò prima x4, y12 poi darò x24, y4 perché è 16-12 poi darò x8, y40, meno 16, 24 e via dicendo va bene? poi se qui 3 darò x20, y, meno 12 perché sono versi in basso e via dicendo quindi dipende anche la quotatura influenza fortemente l'utilizzo delle coordinate g90 e g91 quindi vedete un esempio ovviamente vediamo che nelle g90 ho 4, 12 poi 28 perché è la somma delle due 28, 16 questo chiaramente mi costringe a una somma 4 più 24 se invece leggo subito il disegno qui ho 4, 12 24, 16 cioè scusa 24, 4 perché è solamente la differenza e via dicendo va bene? questo un po' dipende da come da come anche è quotato un disegno rispetto a ciò che voglio fare ok? allora di default le macchine lavorano con le coordinate cartesiane l'abbiamo dato per scontato però abbiamo la possibilità di lavorare anche con coordinate polari le coordinate polari mi danno il raggio e l'angolo chiaramente nel piano di lavoro va bene? come vedo qui bene R30 angolo 53 gradi R50 angolo 26 oppure angolo raggio 75 e l'angolo ora magari qui non è dato come può attivare la funzione polare con il G16 la disattivo con il G15 quindi le coordinate polari lavorano raggio angolo sempre nel piano ovviamente di riferimento ok? quindi in questo caso l'X è il raggio Y è l'angolo in gradi X è 30 Y è 56 poi fa X se non è incrementale X è 75 Y 26 che è l'angolo ok? se lo fa incrementale fa X è 30 Y è 53 X è 50 Y è 26 ok?